Ragazzi, cosa fate qua stasera? Mi stai riprendendo in qualsiasi tuo... Tutto il titolo, il sacrambito, il cosi frano. Ma sai chi è lui? Chi è? Non mi interessa che è famoso, frano. Non mi interessa, frano, non mi interessa. Può essere anche frano. Se fosse spere e passano, frano.